All'andata sorrisi per voi perché avete vinto 1-0, che gara ti aspetti questo ritorno? Secondo te come sarà? All'andata abbiamo avuto la meglio sul Pescara e questo ritorno è sempre un derby, faremo la nostra partita, noi stiamo studiando il Pescara, vediamo come andare a prendere, faremo sicuramente la nostra partita. All'andata comunque avete giocato a viso aperto per larghi tratti, però concedere forse troppo spazio al Pescara è pericoloso perché il Pescara segna parecchio. Sì, davanti sono molto forti, quindi vediamo il modo di contenere questi attacchi, di essere compatti e di far giocare il meno possibile il Pescara. Un pensierino, un pensiero o è un obiettivo quello dei playoff? L'obiettivo adesso è la salvezza e speriamo di fare molto meglio. Grazie a tutti.